Smartphone Assist è vendita e assistenza per smartphone, PC e tablet. Trattiamo sia nuovo che usato e proponiamo una vasta gamma di accessori. La nostra sede di Morciola effettua anche servizi di fotocopie e fax ed è Service Point UPS DHL. Ti aspettiamo a Morciola, Urbino e Fano, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.